Shalom, famiglia di ebrei! Wow, papone, dove hai preso tutti quei peli del petto scintillanti? Venivano con la stella di David. Peter, che stai combinando? Questo Lois è il mio modo di farti capire che ti accetto per quella che sei. E non mi chiamo più, Peter. D'ora in poi, chiamatemi col mio nome ebraico. Sì, però, tieni presente... che non si diventa ebrei così dalla sera alla mattina. È un processo lungo che richiede esercizi spirituali e un impegno costante. Quindi vuoi dire che accade durante la notte? Senti, Peter, sono io quella che è di origine ebraica e non voglio che diventi una faccenda di Stato. La solita ebrea che rovina il divertimento di essere ebrei. Stammi a sentire. Mi piace il cappello e anche la stella, quindi procediamo. Figlioli, da oggi questo sarà il luogo dove celebreremo il Sabbat. Io insisto nel dire che non è necessario. La nostra vita andava bene anche così com'era. Ehi là, ora sono uno di voi, eh? Sono ebreo, e vai! Olocausto, siamo il numero uno! Avete visto quanti uomini bassi e pelosi? Mi sembra di stare sulla luna buscosa di Endor. Buon pomeriggio a tutti. In prossimità della Pasqua ebraica ricordiamo insieme le sofferenze del nostro popolo, costretto a lavorare sotto il gioco del potere dispotico del faraone. Se qui ci fosse un ubriaco sarebbe un ebreo ebro! E la mia risata è ebraica, va perfezionata. Non mi sono mai sentita così in imbarazzo. Possiamo andarcene ora? Ehi, ciao, quanto sei carina! Oh, grazie di cuore! Mamma, scusa, la sodomia è illegale se sei ebreo? Spero proprio di sì, Meg, spero proprio di sì. Non è vero, Lois? Non è vero? Ehi, Lois, i ragazzi si sono addormentati. Sì, dormono profondamente. Sai una cosa? Oggi ho comprato un bel vestitino sexy per te al negozio ebraico. Cos'è quello straccio? Oh, porco cacchio, se ora indossi questa palandrana mi farai perdere la testa! No, io non mi metto addosso a quella roba. E con questo scialle sulla testa? Hai delle scarpe da contadina massicce e fuori moda? Oh, ti giuro, Lois, ti giuro che perderei la testa! Peter, stai lontano da me! Dimmi che non guadagno quanto il marito della tua amica! Ora falla finita, Peter, voglio dormire! Bene, e allora io mi guardo la TV. E ora torniamo a Mark Wahlberg in Scocciato e Confuso!